yuki a tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi siamo qui con una nuova puntata del market watch dove andremo a guardare in primis lede poi alcune altre cartine che sono spagate di prezzo questi giorni ma ovviamente ragazzi prima di iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da fantasia store il miglior negozio ragazzi dove potete acquistare lede quindi ovviamente se volete supportarmi e ovviamente avere un piccolo sconto trovate il mio referral link e il codice sconto sempre questo stessa cosa ragazzi per giallo ovviamente non ha lede però ha tanta altra robina molto interessante roba giapponese coreana e ovviamente delle cosine spazi tipo roba one piece gradate roba bandai quindi ovviamente trovate tutto qua sotto in più se volete liberarvi di carte di yuki magic pokemon e one piece trovate il link del instagram sempre qua sotto ragazzi contattatemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare detto questo andiamo a vedere cos'è successo al mercato o erenza adesso andremo a vedere se ne valsa la pena o meno non acquistare quelle belle casse di lede allora partiamo da dalle quarter so che non sono cose che dovremmo andare a considerare però nel senso per farsi un attimo un'idea di quanta merda potremmo trovare all'interno dei box che acquisteremo che andremo a sbustare allora come quarter attualmente più costoso abbiamo lo spadaccino silente strano ok ok che il mazzo è carino però mi fa strano che la quarter più costosa sia lui che neanche costa poco eh se parla di 40 45 euro attualmente non ci sono venduti quindi probabilmente scenderà un pochino però nel senso manco poco trio congegno orgoglio d'oro ok diciamo che mi aspettavo che almeno tra le quarter ci potesse essere la super tempi però invece no hanno fatto solamente gandora e il congegno e lo spadaccino che fanno parte tipo tutte dello stesso mazzo poi vabbè carta gold pride che vabbè ci sta e la carta valmonica ok vediamo se ha dei venduti no sta sui 40 però ancora nessuno l'ha acquistata quindi probabilmente scenderà un pochino di prezzo andando avanti allora abbiamo le secret che nel pratico sono la roba che troveremo principalmente allora le più papabili attualmente sono l'apprendista incubo che non è male praticamente è un mostro illusion che entra special a caso e ti search a illusion quindi non è assolutamente male e attualmente si aggira sui 26 27 euro ha dei venduti anche su sì sui 25 e diciamo che sì questa credo si distanzierà su questa cifra tanto il grafico non sembra scendere più e probabilmente rimarrà così anzi io la voglio sparare grosse secondo me questa è una di quelle che ne parleremo dopo di questa roba poi abbiamo varudras che anche questo non è male peccato sia tipo rango 10 se non ricordo male sì è rango 10 questa carta fa una cosa sola ovvero spaccare attiva l'effetto spacca attacca spacca viene spaccato spacca anche in quel caso non ha senso e anche questa la troviamo sui 20 22 euro e il grafico anche questo è molto in linea credo che sarà un'altra carta che rimarrà lì ragazzi non avete lasciato like guardate che sta qua è piccolo ma c'è like e iscrizione poi il commentino buttateci tanto non vi cambia niente poi poi come altra secret questa anche molto interessante è il nuovo supporto yubel che praticamente vi aggiunge yubel da deck alla mano oppure ve lo spacca in più se un mostro yubel lascia il terreno e vi fa aggiungere tipo uno yubel dal cimitero deck o bandite quindi assolutamente non è male è un cercino abbastanza grosso e tanto che c'è me lo fa pure evocare specialmente quindi come carta di supporto non è niente male diciamo che anche questa ragazzi si sta sulla ventina the secret questo set non c'ha roba enorme però diciamo sono tutte abbastanza costanti quindi non è assolutamente male poi andiamo avanti abbiamo la di abelze nuova che questa tipo può giocarla a chiunque se tu giochi sim foot point la giochi stessa cosa al contrario a parte che è un illusion quindi la puoi searchare con la carta abbiamo visto prima in più praticamente obbliga a settare le carte magie trappola tipo le spacca non so come spiegarvelo ragazzi ah e non abbiamo visto ovviamente il prezzo ragazzi che penso sia la cosa più interessante e anche questa tipo stava sui 22 è risalita sui 24 secondo me questa piano piano potrebbe risalire un pochino e ti dirò attualmente come set ha 4 carte sui 20 euro poi abbiamo vabbè la magia raica sui 12 14 anche questa è rimasta abbastanza costante cioè allora nel pratico le uniche secret di merda se si possono definire secret di merda sono la roba del mazzo sarcofago tutte quattro poverini vabbè almeno avete un mazzo che costa poco ma brilla tutto foil guarda almeno brilla il mazzo si quello su quello sono d'accordo poi andando avanti abbiamo il piccolo jd che anche questa non è male è tipo l'amore di tutta la famiglia poi vabbè abbiamo il tem... ragazzi tempai padra questo su questa carta vorrei fare un attimo un discorso a parte che costa un botto allora chiunque pensava veramente che tempai sarebbe costato poco non ci ha capito niente nel senso il mazzo costerà poco d'archetipo però ovviamente su qualcosa ragazzi le persone dovevano appigliarsi eh non potevano farvi il mazzo tutto a due centesimi e ovviamente come è successo con magnamut l'anno scorso e la carta tempai costa la carta tempai costa anche se è super sta una quindicina ovviamente non mi aspetto a rigli a 30 euro come magnamut metto subito le mani avanti però sicuramente non me l'aspetta di meno il mazzo è forte e una carta che costa ci deve essere che a questo giro è questo poi sì ci sono ci sono anche altre carte vecchie però konami l'archetipo ce l'ha fatto così e così si gioca però è questo ma secondo me il problema di fondo anche che obbliga a questa carta a costare così tanto è che nel pratico il set non ha così tante carte costose cioè ha sì tante carte interessanti che possono essere i lightsworm come possono essere le secret che abbiamo visto prima ma sono tutte carte da 20 euro cioè nel momento in cui non ci sono carte costose ovviamente la roba più interessante qualcosina anche se è super deve costare tanto e beh è normale questi sono tutti i negozi che hanno aperto il prodotto da qualche parte i soldi devono ritirarli fuori se ovviamente non esce niente di troppo interessante poi io metto le mani avanti secondo me più avanti una delle secret spikerà per qualche oscuro motivo perché c'è della roba che cala e quindi devono si deve compensare ragazzi è successo così in back in back c'era illusion of chaos che era salito proprio perché a parte perché era una carta buona ma perché anche il mago nero alternative art stava scendendo quindi ovviamente bisognava compensare con qualcosa poi anche il blue ice jet era salito che era salito a 40 euro una roba del genere vabbè follia sì una roba simile scusatemi colpa mia eh colpa tua le hai fatti sparire tutti dal market io avevo solo detto che era una bella carta e poi qualcuno le ha fatti sparire dal market io mi ritengo estraneo io non ne voglio sapere niente eh ragazzi io non ho neanche un gelo andando avanti poi abbiamo vabbè la carta centurion che questa dovrebbe essere anche questa secret però ovviamente eh beh pensavo meno invece sta sui 12 euro 12-15 euro nel pratico se sei sfigato vecchi quei disgraziati della roba sarcofago se altrimenti vecchi due secret da 30 euro no da 30 no da 20 euro andando avanti abbiamo anche Minerva che questa qui mi dispiace un po' che non sia non sia secret peccato l'hanno fatto ultra comunque c'è qualcosa che non mi porta abbiamo visto poche quarter proprio controllare la roba ok car market è una merda perché ci sono altre quarter interessanti tra cui Minerva e ci sta nel senso Minerva spinge cioè spinge abbastanza come carta eh non l'hanno fatta secret ma almeno quarter se lo merita mettiamola così poi che fai giochi Lights War Max Rarity e la giochi ultra un po' triste eh pur in Giappone c'avevano quarter andando avanti abbiamo poi ah vabbè i due maghi silenti perché uno credo sia quello ultra promo da sneak e poi abbiamo anche la versione secret il veidos ragazzi che quanto sta quanto sta sto cosa 4 euro questo ha fatto spagare l'altro veidos vediamo se per qualche scuro motivo il mazzo diventerà meta e quindi ritroveremo questa carta a 30 euro come è successo con la fusione di Yubel è interessante eh carina eh poi boh io il mazzo non l'ho testato quindi è inutile che vi dica no il mazzo è incredibile ragazzi compratelo finché siete in tempo poi controlliamo un attimo il mago silente anche questo sta sui 4 5 6 euro il playset però ragazzi il grafico è in discesa qua probabilmente scenderà di un altro pochino andando avanti poi le ultime carte vabbè abbiamo la nuova carta di Avastar che sta sui 6 euro anche questa ultra rara il grafico il grafico è molto antalenante comunque a questo giro non c'è roba spazzatura cioè non c'è roba da due centesimi come succede in ogni set che hai la secret proprio brutta brutta qua è un po' tutto vediamo di tirassù qualcosa è un bel set è un bel set però te destabilizza un po' a me ricorda i bei vecchi set di quando c'era lui esatto di quando c'era Mattia eh volevo dire Mattia Mattia questo è solamente per te quando c'era lui i treni arrivavano in orari andiamo avanti vabbè poi abbiamo ecco guarda inizia a esserci la roba proprio di merda abbiamo vabbè Gandora che è la cover card che ragazzi la cover card cioè non può costare sempre meno ogni espansione che esca ma fatemela in qualche rarità carina questa tra una settimana la troviamo a 99 centesimi 100-100 sei in Giappone? non avrai la vita carina della cover card no questa ci sarà sicuramente anche quarter 100-100 infatti 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 ho detto una verità non una merda comunque la fanno secret bene questa sarà la secret da 99 centesimi il fatto è che è molto bellino l'artwork mi dispiace un po' la vendono da 2 euro comunque si si poi abbiamo vabbè quest'altra silenzio futuro anche questo ragazzi il grafico in picchiata ma ce lo montiamo secondo me con 40 euro in un abbraccio cioè si può fare max rarity beh sì noi abbiamo anche l'altro il sanjepai che è l'altro sincro super ovviamente sta molto meno il grafico in discesa però penso sotto i 3 euro non andrà mai poi 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 abbiamo vabbè roba raica roba valmonica legami che vincolano i gadget ultra ecco ecco questa no no io qua rosico rosico un po' hanno fatto uno spadaccino secret e uno ultra fortuna che c'è la promo sneak che è ultra e quindi puoi giocarle entrambi la stessa rarità no questa è stata ma perché hanno effetti contrapposti e quindi ci stava farli entrambi uguali no no è impossibile avere un'idea buona bisogna assolutamente danneggiare qualsiasi cosa di esistente ma ok è ovvio scusami non sarebbe konami sì sì hai ragione scusa guarda scusa va bene tutto va bene tutto ma lo sappiamo per un passo giusto ce ne sono almeno 37 sbagliati comunque guarda un po' che bella questa vuoi blu land il becchino drago non so neanche che carta sia bellissima bellissima quella carta mamma mia un artwork così bello così nitido poi 60 centesimi pack fresh dalla grecia queste me le compro ti è fatto vai vai scioppa tutto scioppa tutto fa vedere agli altri come come si buttano via i soldi come solamente il prezzo delle carte poi abbiamo vabbè la roba melodiosa che mi è stato detto che è carina incredibile io odio quel mazzo comunque perché la solo primo movimento sta 25 euro per quella roba probabilmente sì 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 non ho un primo movimento quindi mi sta ancora più sul cazzo il mazzo dove cazzo sono finiti tutti i miei primi movimenti allora spariti io ho controllato ovunque non ho trovato un primo movimento controlliamo anche il primo movimento a parte schifo sta 40 centesimi è l'unica super il resto è comune mi sembra non so se ce n'è un'altra super vabbè però primo movimento ti è primo movimento da Natch no 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 quanto è salito? 25? 25 allora no ragazzi no non ci siamo cosa non avete imparato dai nostri market watch forse è colpa 18 questa forse è colpa proprio dei nostri market watch dovremmo smetterla dobbiamo smettiamo di fare market watch ragazzi se no mi ai fate qualsiasi carta di cui parliamo fatemela comprare prima grazie o mettiamoci tutti d'accordo facciamo una bella un bel gruppo whatsapp diciamo ragazzi facciamo sparire 400 copie di primo movimento e le ricarichiamo tutte a 50 e così si può fare non che io vi dico ragazzi guarda guarda sta salendo e poi me lo fate spiegare a 20 euro scusa e poi fate quello che dovete fare ovvero comprarvi le carte a un prezzo decente come vi diciamo di fare noi però le togliete a noi sì sì così non funziona credo in realtà forse deve funzionare così io andrei avanti perché secondo me c'è qualche altra carta che secondo me hanno fatto spiegare proprio perché gli abbiamo fatto vedere il market watch noi ok va bene vediamo oh eccola qual è? Rident Dragon no ma davvero no ma sì ma la vedo è ovvio sto scherzando allora Rident Dragon quando ne avevamo parlato stava all'incirca sugli 80 euro venduti NM che è comunque quello ultimate eh sì sì che non era male poi dal nostro market watch in poi sono successe delle cose del tipo eh ma Tenpai tutto comune e super e quindi 108 euro ah non era la logica ah Tenpai è un mazzo forte non serve playtestare tutte quelle seghe mentali sono inutili no no il fatto è che dici se il mazzo già costa 400 non provi a fare soldi su una carta in più perché già costa di base ma quando il mazzo non costa niente bisogna ovviamente ai pare quello che già costa beh è ovvio e quindi un NM meno a 110 euro e poi 130 in prima sono contento di aver venduto il mio good da 70 non mi interessa veramente non mi interessa sono contento così perché quando ve la butteranno in culo con la versione super da OTS starete lì a succhiavi i cazzi eh io ve lo dico subito non è il dubbio compratevi le mie versioni ultra dai raga sono primo prezzo andiamo avanti oh abbiamo anche la versione ultra visto che ne stavamo parlando eh e io il primo l'ho venduto a 30 euro e adesso cosa succede al mercato la gente è fuori è totalmente fuori fino a un mese fa no tempai going second è una merda la gente è stupida non capisce un cazzo e al posto di guardare dei veri tornei dove ci sono dei meta vari guardano il loro cazzo di monometa di merda tutto il cazzo di tempo e giorno giustamente perché tanto i tornei sono basati su quelli e non si prospettano per il futuro questo è anche il perché la società fa schifo però vabbè ti immagini poi è un flop il mazzo è una merda non vince e noi abbiamo fatto soldi su Trident Dragon quando in realtà dopo cala perché Snake Eyes è troppo forte guarda Joshua Schmidt non la pensa così io non conosco nessun Joshua Schmidt come no non ha accettato il mio invito al podcast non lo conosco penso che non ti abbia neanche visto l'invito al podcast gli ho scritto su twitter doveva dire grazie cappello dell'onore invece quindi io non conosco nessun Joshua Schmidt andiamo avanti dovevi andare da lui a farti riscattare il token poi vedi come ti cacava andiamo avanti ma guarda un po' anche la versione secret queste queste non me le hai fatte comprate hai detto no queste sono tutte imbarcate sono delle merda non ce fai con 20 euro Trident Dragon però sono belle ma io che cazzo ma io che cazzo ne sacci sei un pagliato chi se lo aspettava ma chi se lo aspettava che quello ultra e quello secret brutto salissero a così tanto American Print guarda guardiamo quanto è bello a me sembra uguale a quello europeo no si vede un po' vabbè però nel senso è bello potente andiamo avanti abbiamo un'altra carta molto molto regata a Tempai ovvero Hit Wave questa carta è una rara che prima costava poco e adesso costa adesso questa è una community da Speed Duel vediamo un attimo da che prodotto esce che ha un senso che costi dei soldi in più di quella rara aspetta dall'estero quanto costa tanto ma io ne dico la ritrovo a 6 euro non avevo capito che stesse qua dentro in quale in quello giallo in quello con Brukido e Rex ragazzi se proprio dovete comprare l'Hit Wave da Speed Duel e comprate direttamente il prodotto fate prima forse lo trovate anche su Fantasia Store link in descrizione sei sicuro che esce da lì sì ho cliccato ma ne sei sicuro sì lo so è un paio comunque sta a 12 euro e vediamo la versione vera 16 euro una rara questa è la rara che costi puttanega io le ho sicuramente dentro il bulk però è troppo bulk per controllarlo tutto che palle ragazzi qualcuno vuole essere assunto gratuitamente per cercarmi l'Hit Wave dentro gli scatoloni cioè assunto gratuitamente e non penso che esista da nessuna parte del mondo vabbè che ne so lo fanno per sport cioè poi se gli piacciono le figurine nel senso c'è tanti modi per lavorare gratis allora andiamo avanti abbiamo anche Dispatera anche questo c'è avuto ragazzi un hype insensato post-banned ok mi rifaccio a quello che ha detto Toda ha detto che l'aveva provato in Tempai ha detto altre cose che non ricordo però nel senso si è hypato Snake Eyes mi sembra avesse detto quindi io non lo so io metto le mani avanti se ho detto cazzate prendetevela con Toda qua sotto nei commenti nel suo video come volete gli dite Toda sei un coglione poi andando avanti abbiamo anima abbandonata anche questo è leggermente salita ragazzi perché ovviamente non c'è più linkuribo e quindi sarà un linkuno carino e lui è l'alternativa visto che lo possono giocare tutti tanto eccetto un token quindi qualsiasi mostro di livello 1 sopra ce lo puoi fare è arrivato a 7-8 euro sì che non è manco poco andando adesso alle ultime due carte abbiamo i Nemesis ragazzi hanno annunciato i nuovi supporti e ovviamente la gente è andata fuori di testa fuori questo è il momento in cui le persone si sono rese conto che erano state annunciate i supporti quindi da 92 centesimi siamo passati a 1,50 euro poi a 5 euro e adesso si vendono su 10 euro dove cazzo codo codo ragazzi se qualcuno vuole dei Nemesis ce li ho li caricherò sul market a breve poi guardate che ladro guarda i play set 10 euro i play set se gode guarda che ladro sei mamma mia della roba che ho tirato fuori dal bike a caso e niente stessa cosa ragazzi il fratellino fratellino rosso flag anche questo da questo qui già costava di più è sempre stato il talenante sui 4 euro però adesso arriva a 6 vabbè questo questo non è cambiato tanto poco di più però di base costava ma sai il problema di fondo è che comunque hanno monoprint da etico quindi se vuoi giocare il mazzo e nel pratico le carte so queste non è che ci puoi fare altro poi in konami veramente nel culo con le di stampe però sono cose che possono succedere come non possono succedere per i samurai super pesanti tipo questa cosa non è successa per ovviamente la roba come si chiama spirit sakitama e aratama è successo per la roba pendolo è successa diciamo a volte si è più fortunati a volte meno sta a voi vedere diciamo anche un po' scriptata la vita di konami eh sì sì tipo non si sa perché la roba infernoide non è stata ancora ristampata ma va bene battle of legend vediamo forse non ne siamo ancora di sicuri ancora io sì ha già deciso ha già deciso che staranno lì dentro lì dentro ci sarà anche la mia voglia di vivere oppure si fermano a infernoide oh guarda allora la tua voglia di vivere penso che sia molto più ampia della mia quindi vorrei ci fosse la mia interessante e va bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento se conoscete qualche altra carta che è spiegata questa settimana almeno così ne parliamo settimana prossima inoltre vi rinnovo l'invito a lasciare like ragazzi like e commento e iscrizione a voi non mi cambia niente a me mi dà un supporto enorme quindi ragazzi più aspetto detto questo ragazzi state mesi e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti